Un delinquo organizzata da tanti giovani del paese con la chiesa e Don Antonio Polidoro e abbiamo qui Emilio Labriola, un artigiano del luogo che ha subito più volte furti all'interno della sua attività artigianale. Emilio, che cosa succede ogni volta? È triste come cosa, però mi rendo conto che purtroppo delinquere non è solo una realtà di Scanzano, è una realtà diffusa in tutta Italia ed è diffusa anche a livello, come devo dire, nella fascia metapontina. Scanzano ha una marcia in più, Scanzano ha ancora una volta dimostrato di avere una marcia in più perché con questo sentimento che parte dai giovani, da coloro che credono, cioè pensano e sono fiduciosi nel far crescere questa comunità nel sociale, sono i giovani. E loro già credono in questo e Scanzano ancora una volta, come dieci anni fa nelle scorie, sta dando una dimostrazione a noi imprenditori, artigiani, commercianti di avere un futuro davanti pulito, sano, prestigioso che ci potrà dare un rilancio sicuramente come immagine e come tutto. La delinquenza c'è, va affrontata, ma va affrontata dalle basi perché noi dobbiamo occuparci del sociale, io sono di questa opinione. La sociale è cercare di avvicinarci il più possibile ai giovani, a quelle fasce d'età più vulnerabili, cercare di coinvolgere la scuola, cercare di coinvolgere la chiesa, cercare di fare i centri di aggregazione per i giovani che sono dai 15 anni in su, purtroppo vulnerabilissimi. Quindi se noi non creiamo attrattiva e ognuno di noi, cittadini di questa comunità, come si è sentito coinvolto questa sera e sicuramente in altre serate, dovrebbe dedicare un'ora del suo tempo al sociale, almeno la settimana, per sentirsi parte integrante di questa comunità per farla funzionare ancora meglio. Questo è un suggerimento da qualcuno che ha avuto determinate situazioni, reati, e purtroppo ne sono stati fatti, furti e così via discorrendo, però noi siamo qua e a testa alta riaffronteremo con molta dignità, come abbiamo sempre fatto, il nostro futuro. Io non delinquo, voi siete delle giovani ragazze di Scanzano Ionico, ma Scanzano è solo criminalità? No, Scanzano è soprattutto speranza, voglia di avere un futuro migliore e noi speriamo che con questa manifestazione abbiamo dato l'input, che sia un primo passo per andare avanti e spero che ci sarà come questa sera la partecipazione degli scanzanesi. Mi auguro che andrà sempre migliorando. Ci sono parecchie cose che potrebbero migliorare e il fatto che ci sono questi crimini, microcrimini, macrocriminalità, si è parlato. Partiamo da questo, non c'è solo cattiva gente che fa queste cose brutte, che demoralizza comunque un po' la morale pubblica. Nasca anche la speranza nel migliorare, anche a livello culturale, il paese. Noi ci siamo, ma non ci siamo. Da un ex amministratore di Scanzano Ionico, Silvio Cecere, nonché commerciante, grande partecipazione per questa iniziativa Io non delinquo. Beh, è stata una bella risposta da parte della popolazione, grande merito anche ai ragazzi che hanno voluto dare un segnale forte per questi episodi che stavano portando una brutta nomea alla nostra terra. Praticamente sono episodi che non devono succedere. Noi chiediamo un grande aiuto sia alle forze dell'ordine, sia alle istituzioni, perché questa è una terra che ha ancora tanta brava gente che va tutelata. E quindi non posso fare altro che ringraziare questi ragazzi per questa manifestazione.